Strada dei Fenatacci, una lingua d'asfalto stretta dove a malapena ci passa un'auto che taglia una collina e attraversa una vallata verde e rigogliosa ricca di aziende agricole e abitazioni tra Cerreto e Novilara che al momento per gli abitanti del posto è la sola via di comunicazione disponibile a causa di una estesa frana. Arrivando con l'auto e parlando con gli abitanti ci rendiamo conto che ci troviamo in un piccolo paradiso dove chi ci risiede o per scelta o per nascita assapora il clima di una volta, tutti si conoscono e ritmi di vita dettati dalla campagna ma che all'occorrenza ha portata di soli 10 minuti di macchina o Fano o Pesaro. Questa piccola comunità di 5 unità familiari per una ventina di persone da un po' di tempo subisce una pesante limitazione nei suoi spostamenti a causa della frana che ha completamente spezzato a metà la strada vicinale che consentiva anche a mezzi più grandi di transitare. Di solito erano frane che venivano dal monte sulla strada e adesso invece è stato molto più grave perché è la stessa strada che è scesa giù, però è una situazione indubbiamente a rischio questa. Anche voi che ci lavorate siete in grossa difficoltà? Parecchio perché d'altronde noi con le metri trebbie non siamo in possibilità di passarci, purtroppo i disagi sono tanti. Adesso speriamo che qualcuno ci dia una mano, che ci metta a posto questa strada. La preoccupazione degli abitanti per la situazione di emergenza che si potrebbero verificare da un mese e mezzo a questa parte si somma alle difficoltà per gli spostamenti. A me preoccupa molto i mezzi di soccorso un po' più grossi, non la semplice ambulanza per dire perché non si passa, loro dicono di sistemare per la rina strada che viene da sotto ma non è sufficiente perché questa è una strada anche per mezzi più grossi, più 23, bia, camion, insomma laggiù non si entra, siamo isolati in un certo qual modo, non siamo bloccati in casa ma siamo isolati. La situazione incresciosa è stata più volte esposta dai frontisti al comune di Pesaro sotto il cui territorio ricade la strada che gli abitanti hanno, attraverso una sottoscrizione di un documento diversi anni fa, espresso la volontà di cedere come proprietà al comune in cambio però della sua manutenzione. Ma sembrerebbe che questo accordo giaccia ancora in qualche cassetto nel comune ancora da rettificare. Con il risultato che ora la sistemazione della strada langue e che il comune abbia proposto una compartecipazione alle spese per il ripristino della viabilità di una somma attorno ai 20.000 euro per nucleo familiare, prospettiva che non ha affatto entusiasmato e trovato il consenso degli stessi abitanti. Io il 23 febbraio quando ha piovuto ho dovuto tornare a casa a piedi, tutte le strade del ceretto erano bloccate, in Uvilara erano bloccate e ho dovuto tornare a casa a piedi saltando questi greppi, questi campi così. Dobbiamo fare tutto un giro molto più largo e poi quando piove rischia anche di fare altre franne nella strada di sotto e quindi rimarremo proprio bloccati in casa. Ci sono anche famiglie con bambini piccoli quindi direi che non è il caso di lasciare la strada così. Bisogna rimetterla in sé? Sì certo, certamente anche perché il danno è veramente molto grosso, ci sono anche dei pali del telefono che comunque stanno andando giù, la strada è inesistente, è un danno molto grosso, non possiamo essere diciamo isolati e lasciati da parte perché comunque siamo abitanti come tutti gli altri. Ora i residenti chiedono urgentemente un nuovo incontro con il comune per definire come uscire da questa situazione di stallo che penalizza oltre che gli abitanti anche le piccole strutture ricettive della zona che vedevano nei percorsi utilizzabili una risorsa turistica per chi vi soggiornava e che ora risulta nulla per via della bella strada spezzata.